Presidente del Termina Container di Ravenna, Gian Antonio Mingozzi è tornato in occasione delle amministrative 2021 a schierarsi in prima fila nella campagna elettorale Ravennate. Da componente del triunvirato che ha guidato il Partito Repubblicano verso l'appuntamento alle urne, Mingozzi è uno dei volti più noti nella lista del PRI per entrare in Consiglio Comunale. Votare Repubblicano per difendere il sistema dell'industria legato all'energia, votare Repubblicano per sviluppare ulteriormente l'università che ha già 4.000 studenti a Ravenna ma che può utilizzare nuove fonti di caratteri istituzionali e soprattutto culturali rendendo l'università e Ravenna nota in tutto il mondo. Votare Repubblicano per avere più infrastrutture che oggi ci mancano e votare Repubblicano perché la memoria di un porto che cresce non vogliamo che si sviluppi più lentamente di quanto non sia possibile. E infine votare Repubblicano per contrastare anche coloro che facendo parte della nostra stessa maggioranza magari hanno idee un po' diverse, mi riferisco a volte ai 5 Stelle o a volte a altri partiti. Quindi il voto Repubblicano è una garanzia di equilibrio per i nostri temi storici in giunta e in amministrazione ma è anche e soprattutto la garanzia di continuare sulla strada che Ravenna ha imboccato da diversi anni e che è un'ottima strada. Votare Mingozzi viene in secondo piano perché un po' di esperienza c'è, non c'è solo quello che abbiamo dimostrato assieme ai colleghi, tutti i colleghi della lista, c'è anche un po' più di capacità di saper vedere prima le trappole, saperle evitare e saper porre problemi in maniera solida. Un po' di esperienza serve anche per avere orgoglio e per non molare mai. Questo è un mio pregio che non sparirà mai.